Siamo a fianco della tenda che tramite l'esercito e l'unità di crisi abbiamo ottenuto per supportare le necessità di spazio e di luoghi sicuri dove trattenere i pazienti in attesa di incorso di valutazione. Questa tenda è in grado di accogliere fino a 15 pazienti a cui assicuriamo sia la sorveglianza sanitaria da parte di personale infermieristico e medico e assicuriamo un sufficiente comfort di permanenza e sono pazienti che ovviamente hanno un basso impegno di tipo assistenziale e anche un basso livello di gravità. Diciamo che nella nostra visione la tenda è dedicata a quel gruppo di pazienti che magari con una breve terapia e una tenta valutazione da parte del medico d'urgenza possono senza rischi essere rimandati al domicilio per essere seguiti in maniera attiva dal territorio e dalle USCA. Dobbiamo ringraziare l'esercito perché devo dire che appena abbiamo avanzato questa richiesta c'è stata una risposta assolutamente più che tempestiva.